Ciao Fisio, sono Claudio Colombo e sono un docente del corso di Neurodinamica Clinica di PhysioScience e oggi ripasseremo insieme i meccanismi adattivi con cui si muove il sistema nervoso periferico. I nervi periferici sono strutture discoelastiche e si devono adattare ai movimenti del corpo. Per farlo utilizzano diversi meccanismi adattivi. Due meccanismi sono di tipo deformazionale e sono il meccanismo di tensionamento e il meccanismo di compressione. Per poter dissipare le forze tensive e compressive a cui il sistema viene sottoposto, il sistema nervoso periferico è anche in grado di scorrere e scorre sia longitudinalmente sia trasversalmente al suo decorso. Andiamo a vedere con alcuni esempi come ciò accade. Prendiamo ad esempio questo elastico tubulare che rappresenta in maniera perfetta la struttura di un nervo periferico. Come potete vedere, se applichiamo delle forze dall'esterno, la struttura si comprime. Allo stesso modo, se allunghiamo il suo decorso, il nervo va in tensione e tensionandosi riduce il suo calibro, comprimendo ulteriormente la struttura e aumentando la stiffness. Durante i movimenti il nervo si comprime e si tensiona e per dissipare queste forze deve potersi muovere in scorrimento longitudinale e trasversale. Osserviamo il marker che abbiamo posto al centro. Se noi tensioniamo il nervo verso una direzione, il marker scorre nella stessa direzione. Questo a significare che il nervo decessita di scorrere nella stessa direzione del tensionamento. Vediamo anche l'altro lato. Se noi tensioniamo nella direzione opposta, il marker scorre nella direzione del tensionamento. La capacità di scorrimento del nervo però non è infinita. Pertanto, se noi tensioniamo da entrambi i lati, lo scorrimento va in compensazione e lo stress tensile aumenta a dismisura. Siccome nella natura il nervo non è posto in tensionamento ma è rilasciato, quando il nervo viene tensionato, lo scorrimento non avviene soltanto in direzione longitudinale verso la direzione di tensionamento, ma anche trasversalmente al suo decorso. Come potete vedere, se io tensiono il nervo rilasciato, cerca la strada più corta per poter dissipare le forze intensive, producendo uno scorrimento trasversale. Ovviamente questi meccanismi di adattamento al movimento non possono essere selezionati perché il sistema nervoso periferico li mette in atto tutti contemporaneamente. Conoscere però quali sono i modi in cui il sistema nervoso periferico si adatta durante i nostri test e le nostre tecniche di trattamento ci permette di selezionare e di poter gestire i carichi tensivi e i carichi di movimento a cui lo sottoponiamo per poter indirizzare il recupero della funzione. Conoscevate già tutti questi meccanismi adattivi e sapete come utilizzarli all'interno della vostra pratica clinica per testare e trattare il sistema nervoso periferico dei pazienti? La neurodinamica è la risposta a tutto questo. Spero che il video vi sia piaciuto e vi ringrazio per averci seguito. Nel caso vi chiedo di lasciare un mi piace qui sotto e di iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo video.